Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di prima mattina alle 7 puntuali, la puntualità è indice di serietà, questo vale per tutti, in tutti i campi della vita. E allora puntuali come sempre anche noi oggi in questa mattinata alle 7 siamo qui in diretta sul canale 17 di Fano TV per commentare i giornali, le pagine che abbiamo selezionato per voi questa mattina per cercare di capire come sta andando, come va il mondo, come gira il nostro territorio, quali sono le notizie più importanti e le commenteremo insieme. Prima andiamo a vedere il santo di oggi, oggi è una santa famosa, importante, alla quale ci si può rivolgere per chiedere aiuto, Santa Bernadette Subirò, andiamo dunque a Lourdes, è nata il 7 gennaio del 1844, è morta il 16 aprile del 1879 ed è la protettrice degli ammalati. Andiamo a vedere subito il tempo. www.trebimeteo.com, come sempre vediamo la pagina in copertina con il titolo Vortice in avvicinamento, venerdì locali fenomeni rischio gelate tardive che non fanno bene certamente alla nostra agricoltura, ma comunque venerdì, sabato e domenica clima freddo e maltempo, tutti i dettagli, ma noi nel dettaglio andiamo a vedere invece la pagina interna che riguarda la regione Marche. Eccola qua le Marche nella mattinata di oggi, questo è il pomeriggio e questa è la sera. Andiamo a vedere domani, sabato. Sabato la giornata si apre, vedete, con delle velature lungo la costa, poi il pomeriggio velature stese un po' dappertutto, tranne nell'Ascolano, poche cose da raccontare, insomma non ci sono fenomeni e precipitazioni di sorta, ma domenica lo scenario cambia, vedete al mattino la pioggia sul Pesarese, resta invece ancora nuvoloso alternato a sole nel resto della regione, ma il pomeriggio si complica un po' la faccenda, soprattutto nelle parti meridionali della regione, la notte ancora qualche sporadica pioggia al nord e poi più consistente invece nella parte meridionale. Allora io comincerei questa mattina intanto con questa fotonotizia, il titolo è iniezione di fiducia, è la Presidente dell'Unione Europea, la von der Leyen, che si è vaccinata con AstraZeneca, una guida per prepararsi alla seconda dose e arriva anche il Curevac che è un altro vaccino e questa è la fotografia, guardate il particolare del cerotto azzurro con le stelline, insomma simbolo dell'Europa. Andiamo invece sul Carlino di Pesaro, le mie marche nel mondo, il Carlino in tutte le edizioni questa mattina pubblica una foto di Mancini, quasi su tutte, tranne Macerata, come vedremo, Mancini che ha cominciato a girare i primi spot, sapete Roberto Mancini è allenatore della Nazionale di Calcio Italiana, è il testimonial della nostra regione, delle mie marche nel mondo, titolo ma la cronaca trova spazio questa mattina sul Carlino di Pesaro perché c'è stato un agguato in Piazzale Carducci, ieri due uomini sono entrati in azione e hanno rapinato un gioielliere davanti al tribunale, un rappresentante di gioielli, bottino di 30 mila euro, questo è il titolo. Andiamo sul Carlino di Macerati invece perché come vi dicevo non c'è Mancini ma c'è Italo Spinelli del quale abbiamo parlato qualche giorno fa perché si stava preparando a questa nuova laurea, la sua seconda laurea ma chiaramente non è tanto il numero delle lauree quanto l'età che fa la notizia ovvero gli 85 anni di Italo Spinelli. Il decano dell'Università di Macerata ha discusso dal salotto di casa una tesi sul risorgimento lui dice che emozione, non ho chiuso occhio per tutta la notte e adesso pensa anche al terzo diploma, dice ci sto pensando ma si deve confrontare. in qualche modo con l'Università. Alto là alla pedonalizzazione, questo invece è il titolo d'apertura del Corriere Adriatico di Pesaro, nuovo volto di Viale Trieste a Levante, le associazioni dei commercianti però stoppano il progetto, parcheggi, rotatori a senso unico e pista ciclabile, vogliamo il confronto promesso da Ricci. A centropagina sulle riaperture trattativa Governo-Regioni dai ristoranti alle palestre, ecco il piano che è stato discusso nella conferenza Stato-Regioni dal Vice Presidente Mirko Carloni. Rapinato rappresentante nel Borsello, aveva gioielli l'agguato di due uomini in selle ad una moto, la vittima memorizza la targa ma è una targa inesistente. E adesso andiamo a vedere un po' com'è la situazione. Oggi è venerdì e quindi come ogni venerdì teoricamente ci sarebbe la pagella alle regioni per la colorazione, ma come sapete tutta l'Italia è minimo arancione per decreto massimo zona rossa. Le marche invece hanno, secondo i numeri che sono stati elaborati in queste ore, numeri da zona gialla, peccato che appunto non potremmo essere zona gialla, fino al 30 di aprile, lo ripeto, per decreto. Allora, giù contagio e ricoveri, questo è il titolo del Corriere di Oggi, RT, l'indice di contagio in zona sicurezza, quindi siamo sotto all'1, ancora giallo virtuale. Oggi il report, pagella da promozione, ma restiamo arancioni per decreto. I pazienti in terapia intensiva sono scesi a 112, quelli complessivi sono 750, diciamo che ci sono 37 pazienti che sono tornati a casa. E hanno lasciato l'ospedale, questa è già di per sé una buona notizia. Dunque, per la seconda settimana consecutiva, le marche incasseranno oggi una pagella da zona gialla, ma c'è poco da fare. Resteremo in arancione, quindi con bar e ristoranti aperti solo per l'asporto e il divieto di allontanarsi dal proprio comune, se non per lavoro, salute o altra necessità. Il motivo, l'abbiamo detto, è perché fino al 30 di aprile il Governo non prevede misure di contenimento meno stringenti di quelle in atto nella nostra Regione, da dopo Pasquetta. Tra le vittime, questo è il bollettino di ieri, 13 vittime, ancora il numero è decisamente alto, c'è anche un centenario residente a Borgopace, siamo sempre nel Pesarese. Per Francesco Acquaroli, la riapertura da metà maggio è possibile, forse anche un po' prima, questo lo dice sul Carlino di Ancona, credo, dice Acquaroli, che si potrà aprire anche prima, fa ben sperare Acquaroli, dalle sue parole, dice da noi, ci sono le condizioni, ma decide il Governo. L'assessore Mirko Carloni ha partecipato alla conferenza Stato-Regioni, ecco quali sono le nostre proposte. Ora, tra le proposte, scrive il Carlino questa mattina, c'è un contenimento dei numeri, soprattutto in scenari ad alto rischio in zone rosse per la riapertura della ristorazione. Ci deve essere insieme una strategia di screening e testing, cioè misurare la temperatura corporea, fare l'elenco dei clienti, fare la giusta separazione dei tavolini e utilizzare al massimo i posti all'aperto. Ora, è chiaro che l'estate ci viene in aiuto, ci viene in soccorso, perché, come già si è detto, per la riapertura si conta anche di utilizzare appunto le zone, i tavolini all'aperto e già questo facilita un po' la vita. Poi, chiaramente, quello che è importante in questi casi è il tracciamento. Un tracciamento che, come abbiamo sempre detto, è già saltato da un pezzo, cioè quando i numeri dei contagi salgono, i tracciamenti poi, di conseguenza, fanno la stessa fine. Cioè, non si riesce più a risalire dal contagiato a ritroso chi sono state le persone che ha frequentato, la persona che appunto è diventata positiva e di conseguenza tutte le persone con le quali ha avuto a che fare sono potenzialmente libere di contagiare altre persone. Con il tracciamento questo non avviene, perché se il soggetto A viene identificato come positivo e il soggetto A comunica agli altri all'Asur di aver frequentato B, C, D, E, F, G e chiaramente se c'è la possibilità di avvisarli B, C, D, E, F, G è un conto. Se non si possono informare, avvisare che A è positivo, chiaramente tutto salta e tutte queste persone da B fino a Z sono libere di contagiare. Il tracciamento è importante. Il tracciamento è importante e sarebbe opportuno poterlo riprendere appena i numeri ce lo consentiranno, appena i numeri dei contagiati scenderanno. Diversamente è un problema. Ancora contagi sotto la soglia d'allarme, titolo del Carlino di Pesaro. Quattro comuni sono a rischio o restrizioni. Questa non è una buona notizia per chi ci segue da Vallefoglia, da Lunano, da Pecchio e da Pian di Meleto. Sono dei comuni in questo momento attenzionati. In realtà ce ne sono una dozzina in giro per le Marche rispetto ai quali appunto la Regione potrebbe prendere dei provvedimenti. Sono quei comuni che hanno ancora registrato nelle ultime settimane un'incidenza di contagio superiore ai famosi 250 casi medi settimanali su 100.000 abitanti. Ora c'è anche come dicevamo Vallefoglia dove nella settimana tra il 5 e l'11 aprile Vallefoglia ha superato quota 259 casi di incidenza ogni 10.000 abitanti e soprattutto quello che preoccupa sempre a Vallefoglia è che questo dato non è in diminuzione quindi anche perché 250-259 adesso non è la fine del mondo però il problema è che non è in decrescita ma è in crescita. Ovviamente il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli sta ha dichiarato al giornale che sta seguendo la vicenda con quelli dell'Asur ecco quindi gli amici di Vallefoglia sappiano che in questo momento nel loro comune la situazione è un po' così a rischio quindi bisogna fare un po' di più e cercare quindi di mantenere le distanze mascherine sempre messe bene che è la cosa più importante ma soprattutto la distanza mascherine a distanza e gel lavarsi spesso le mani poi c'è il fronte dei sanitari c'è un numero interessante questa mattina che pubblica il giornale a pagina 3 del resto del Carlino mille sanitari che non si sono ancora vaccinati su un numero chiaramente una platea molto più ampia però 7800 su 7800 sanitari mille non si sono vaccinati e quindi questi sono numeri nella provincia di Pesero Urbino che sono emersi nei documenti della regione insomma non è poco ma occhio perché i veri Novax sono molti di meno il dato complessivo marchigiano 4547 non immunizzati su 36463 anche qui insomma il numero fa un certo effetto Magnoni invece che è il direttore dell'area vasta nostra di Pesero Urbino dice i renitenti saranno ridimensionati altrimenti sarebbe un problema complicato e dunque la regione sta serrando i ranghi sul vaccino covid obbligatorio per i sanitari dopo aver raccolto tutto l'elenco degli iscritti dai vari ordini professionali l'ente ha incrociato i nominativi ricevuti per verificare lo stato vaccinale di queste persone prima di chiedere loro di mettersi in regola i dati dicono che insomma 7804 nell'area vasta 1 le persone che hanno dichiarato la condizione di operatore sanitario siano essi medici infermieri operatori social sanitario eccetera eccetera e di questi 6840 hanno detto di essersi immunizzati mentre 964 non hanno ancora deciso di farlo questo è il numero appunto che abbiamo visto poc'anzi mentre c'è addirittura tra chi non lo vuole fare questo vaccino tra i sanitari medici infermieri eccetera c'è anche chi diffida gli ordini professionali a non dare i nomi non date i nostri nomi il racconto di Laura Biagiotti presidente provinciale degli infermieri e fioccano le diffide negli uffici degli ordini sanitari che trasmettono i dati degli iscritti all'albo in base al decreto 44 approvato dal governo che stabilisce l'obbligo vaccinale per queste figure professionali Laura Biagiotti che è presidente degli infermieri dice la regione ha inviato una comunicazione a tutti gli ordini in cui ha chiesto di trasmettere i nomi degli iscritti però appunto alcuni infermieri per fortuna pochi hanno inviato delle diffide perché non procedessimo alla trasmissione dei loro nominativi adesso andiamo a vedere invece a pagina 7 del resto del Carlino c'è una intervista l'immunologo Forni che in qualche modo dice così lui ha 76 anni dice niente paura adesso arriva Curevac è un siero tedesco che supera addirittura i big cioè i grandi americani utilizza dice la stessa tecnologia di Pfizer moderna ma l'ha addirittura migliorata ci sono anche delle altre opportunità dal Canada un composto che sfrutta le piante di tabacco adesso insomma vedremo insomma fin dove si arriverà si parla già di cerotti si parla già l'avrete visto in giro sulla rete basta girare insomma tra le varie possibilità di cura ci saranno anche vaccini sempre più rapidi quindi basterà tra qualche anno forse anche meno qualche cerotto da applicare e via si è coperti per quella o quell'altra malattia oppure una pasticchina oppure ecco tutte cose un po' così e c'è questa comunque oggi Massimo Coutot da Torino scrive questo articolo una grande speranza anti-Covid che potrebbe arrivare dalla Germania usiamo il condizionale ci mettiamo anche il punto interrogativo c'è molto c'è molta attesa per questo cure vac che è finanziato dall'Europa e basato su tecnologie avanzatissime non è il solo però aspettiamo novità importanti dal Novavax americano dal Medicago canadese perfino dalla Soberana 1 e 2 che è un farmaco cubano addirittura è una corsa che impegna il meglio della ricerca in tutto il mondo adesso c'è penuria di vaccini a fine anno li troveremo al supermercato ecco un po' quello che vi dicevo apre uno spiraglio di luce Guido Forni 77 anni immunologo dall'Università di Torino che è componente del Comitato di Vigilanza AIFA e Accademico eccetera eccetera ora siamo dice lui nella fase 3 quindi la Commissione europea ha puntato forte preordinando 450 milioni di dosi i presupposti sono ottimi il gruppo di Tubinga ha stretto accordi con il colosso Bayer e c'è lo zampino di Elon Musk quello della Tesla non ci saranno dunque sorprese negative e come funziona questo nuovo vaccino è progettato con l'RNA messaggero come trasportatore all'interno dell'organismo di quella famosa proteina che è la proteina Spike utile a stimolare la risposta immunitaria ne parlavamo proprio ieri chi ha seguito la rassegna stampa questo è diciamo il futuro dei vaccini ed è questo sui quali l'Unione Europea punta da qui in avanti quindi abbandonando tutti gli altri vaccini che non che non progettano con l'RNA messaggero ma nell'altro modo e quindi tipo AstraZeneca eccetera eccetera questi verranno più o meno abbandonati e quindi è lo stesso procedimento aggiornato però è migliorato rispetto a Pfizer e Moderna e consente di evitare la tecnica del vettore virale su cui si basano invece preparati AstraZeneca e Johnson & Johnson l'altro appunto che vi dicevo diventerà ormai obsoleto e vecchio non so nemmeno se a questo punto lo utilizzeremo e c'è anche l'altro quello italiano che è Reitera che ancora è in fase di sviluppo ma anche questo farà la stessa fine di AstraZeneca e Johnson & Johnson probabilmente verrà messo da parte e vabbè poi si parla della produzione si parla anche di altre cose interessanti che potrete leggere su questo articolo sul giornale di oggi intanto per dare un colpo al cerchio e una alla botte adesso parliamo anche di AstraZeneca perché ci sono molti anche tra i nostri telespettatori che hanno già fatto la prima iniezione di AstraZeneca adesso sono un po' in confusione non sanno se andare avanti come devono andare avanti chiaramente tutti seguiti dal medico di base ma andiamo a vedere cosa scrive il giornale questa mattina pronti per la seconda dosi trombosi rare AstraZeneca parla il virologo pregliasco il rischio zero non esiste in nessun farmaco l'assunzione della pillola anticoncezionale fa un esempio non determina pericoli in più quindi a tutt'oggi la seconda dosi di AstraZeneca si può fare rassicura pregliasco che è virologo anche se la Danimarca per esempio ha sospeso il vaccino definitivamente e alcuni paesi hanno deciso di limitare la somministrazione a chi ha più di 60 anni l'ente europeo non ha ancora ravvisato l'opportunità di bloccare l'impiego del siero anglo-svedese vorrei sottolineare dice ancora pregliasco che le reazioni avverse registrate sono rare rispetto al numero di dosi somministrate mi pare se non ho letto male 100 in Italia 100 su qualche milione insomma questa è un po' la questione intanto i campanelli d'allarme nel caso in cui insomma uno si sottopone al vaccino AstraZeneca se c'è dolore al petto fiato corto macchie sulla pelle ecco se compaiono dopo l'inoculazione bisogna consultare il medico intanto assumiamo i farmaci rischiosi senza paura ma temiamo i vaccini ritenendo il rapporto costi-benefici sproporzionato e adesso invece la questione dei falsi positivi la questione riguarda semplicemente il comune di Pesero perché come abbiamo già detto è il comune di Pesero che ha voluto continuare per la sua strada e fare i tamponi rapidi agli studenti delle scuole prima superiori poi quelle delle medie ora sono venuti fuori tanti positivi nei giorni scorsi ma alla fine si è scoperto che questi positivi erano falsi positivi perché in un successivo controllo quello del tampone molecolare che è quello più affidabile affidabile al 100% poi i falsi positivi venuti fuori con il tampone rapido sono stati dichiarati negativi ora il titolo è questo a pagina 7 i falsi positivi mandano KO il modello Ricci scuola smentiti altri 5 contagi su 7 i tamponi molecolari ribaltano i risultati dei test rapidi con gli ultimi risultati il tasso di errore è questo il problema arriva al 71% è l'articolo di Nicola Smasetti che chiaramente ci fa subito capire una cosa che abbiamo già detto anche ieri appena abbiamo visto insomma che questi test rapidi non sono non sono così così certi e quindi il modello effettivamente è un modello che non poteva così come voleva invece Ricci essere esportato in tutta la regione perché avremmo fatto davvero una brutta figura quindi meno male che è così poi alla fine voglio dire serve lo stesso non è che però ecco un conto è farlo in un comune un conto farlo con dispendio anche di soldi e energie su tutta la regione invece andiamo sull'altra pagina ecco del pagina 19 del resto del Carlino perché all'ospedale di Urbino c'è un altro problema la mancanza di anestesisti e quando non ci sono gli anestesisti ovviamente non si può operare non si possono fare interventi chirurgici e molti di questi sono saltati il problema si presenta oggi e lunedì l'emergenza Civitanova Marche infatti dirotte i medici Foschi e Magnoni cercano dunque una soluzione oggi le sale operatorie di Urbino dunque rimarranno ferme altrettanto avverrà nella giornata di lunedì salvo imprevisti il motivo è perché mancano appunto gli anestesisti la situazione è già nota nulla di particolarmente nuovo ma il fatto è che in certi giorni i numeri delle presenze non quadrano e quindi salta praticamente tutto quanto a Lunano invece oggi è luto cittadino per la morte di Tonino Salvatori ex sindaco Tonino Salvatori è stato sindaco dal 1990 al 2004 oggi alle 15 nella chiesa dei Santi Cosme Damiano ci sarà il funerale mentre a Senigallia l'ospedale vede la luce si svuotano i reparti il pronto soccorso adesso è di nuovo covid free rimangono 4 i pazienti ricoverati in rianimazione e 7 in terapia semi-intensiva in città i contagiati sono calati sotto i 200 Senigallia era una di quelle città insieme a Dancone insomma che ha visto momenti bui e preoccupanti anche nei comuni intorno a Senigallia intorno alla spiaggia di Velluto la pandemia sta allentando praticamente la sua presa cambiamo argomento adesso andiamo a vedere la cronaca perché c'è stato questo agguato davanti al tribunale di Pesaro in pieno giorno ieri dove in due hanno scippato un rappresentante di gioielli è successo in piazzale Carducci i banditi arrivano in moto lo affiancano gli strappano dalle mani la valigetta con circa 30.000 euro di preziosi e poi scappano la vittima aveva appena fatto visionare il campionario alla gioielleria Semprucci che si trova in via Curiel poi si è messa a urlare ovviamente aiutatemi mi hanno appena derubato lo sente un ausiliario del traffico che controllava le soste le auto in sosta e quindi lo ha aiutato guardia di finanza generale Galdino in città la visita il comando provinciale e poi sempre dai quotidiani pagina 16 una notizia che agli animalisti farà ma non solo qui non c'è bisogno di essere animalisti cari miei qui bisogna essere semplicemente esseri umani sbatte il micio a terra e lo uccide la vicina lo filma e adesso in due finiscono a processo oggi si apre il procedimento a carico di moglie e marito il video è agli atti insomma una scena raccapricciante una violenza inaudita e gratuita contro un piccolo gattino la vicina di casa che ha urlato per far smettere la coppia ma loro non si sono fermati e lei ha ripreso tutto con il telefonino facendo finire questo video agli atti ovviamente del processo loro sono marito e moglie 63 e 58 anni dell'entroterra fanese e devono rispondere di uccisione di animali in concorso l'accusa è pesante perché crudeltà per crudeltà e senza necessità hanno causato la morte di un gattino nato da pochi giorni poi ce n'è un'altra ricorderete quella quell'uccisione di una donna siamo ad Ancona forse la foto ci aiuta perché ne abbiamo parlato nel corso della nostra segna stampa questa è la foto di Michael o Michelle Santarelli 25 anni che adesso è in cura in un centro di salute mentale ed è in cura dall'età 18 anni questo ragazzo a un certo punto un giorno il 3 luglio scorso si arrampicò in una finestra entrò dentro casa e uccise la vicina di casa Fiorella Scarponi di 69 anni e ferì gravemente il marito della donna Italo Giuliani di 74 anni tant'è che l'anziano che è storico presidente della Polisportiva di Iesi affetto da una malattia grave è morto l'11 marzo scorso dopo aver dovuto affrontare anche la dolorosa perdita della moglie ora questo ragazzo è stato assolto a nove mesi da questo delitto praticamente non è arrivata nessuna condanna perché il gruppo Paola Mascaroli nell'udienza ha riconosciuto il vizio totale di mente che è già in cura nel centro di salute mentale come dicevamo prima di questa sentenza che lo ha prosciolto si è collegato col tribunale ha detto ha sfarfugliato qualcosa lui in una struttura in una rems di macerata feltrea dovrà arrestarci per altri cinque anni poi dopo si vedrà insomma si aggiornerà un po' la questione bollette salate Aset ora fa ricorso Reginelli il presidente di Aset dice non c'è stato nessun guadagno da parte nostra aumento retroattivo bocciato dal giudice di pace i Cinque Stelle dicono accettate ed estendete la decisione come dire il Movimento Cinque Stelle vorrebbe che anche a tutti gli altri che hanno già pagato queste bollette salate fossero restituiti i soldi invece Reginelli dice il presidente di Aset noi non l'abbiamo fatto non ci abbiamo guadagnato quindi faremo ricorso contro questa decisione del giudice di pace allora per quanto riguarda Fanno le antenne telefoniche si cercano nuovi siti la mappatura del 2006 è carente tecnici a lavoro 5G Iliad si è fatta avanti violenze intrusioni e umiliazioni codice rosso per donne in pericolo due storie diverse stesse paure e forza di denunciare l'ex compagno per una il convivente invece per l'altro poi Autovelox il comune di Fanno spende 50.000 euro sopralluoghi nei quartieri per collocare le postazioni l'assessore della polizia Cuccherini dice questo è solo l'inizio voglia matta di mare i bagnini dicono noi siamo pronti a Fanno Renzi alla Sassonia dice euforia da parte dei nostri clienti Tanfani dall'Arzilla ma se arrivano tutti insieme per l'apertura del primo maggio rischiamo il caos questo per dire che insomma sapete nelle marche la stagione potrebbe iniziare o meglio sulla carta inizierà il primo di maggio la stagione estiva però i bagnini sono contenti sì però ecco probabilmente dicono le condizioni meteo non ci consentiranno di essere operativi il primo di maggio però vedremo Polizia Locale l'Unione fa la forza praticamente è stato firmato nella sala consigliare Montesi ieri l'accordo di collaborazione tra il Comune di San Costanzo e il Comune di Terre Roveresche per la gestione dei vigili urbani c'è stata questa firma vedete i due sindaci al tavolino due agenti della Polizia quindi c'è questa questa intesa sulla gestione che già in vigore entrerà in vigore già da praticamente da lunedì siamo in chiusura spazio gratis per i Deors cioè i gazebo fuori dai locali e 300 mila euro di buone spese questa era la pagina in Senigallia poi Italo che fa il BIS a 85 anni è dottore in storia la terza laurea chissà ci sto pensando grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale poi subito dopo ci sarà uno speciale sul carnevale che vi abbiamo già trasmesso del Circolo Bianchini grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti